Siamo qui con Gianfranco Angiolini, responsabile di PCB AG Certified Service Bureau ed utente dal 1996 dei prodotti Mentor Graphics Paz. Paz VX rappresenta una nuova generazione della progettazione desktop soprattutto per la presenza di numerose nuove tecnologie complementari alle tradizionali funzioni di PCB, layout e schematico. Mi riferisco ad esempio alla gestione delle librerie dei progetti all'archiviazione. Può darci qualche commento nella sua veste di esperto di sviluppo PCB e di Paz in particolare? Diciamo che è abituato da tanti anni in un certo modo di lavorare, questa è un po' una rivoluzione del modo di disegnare i circuiti stampati perché c'è una forte integrazione tra lo schematico e il PCB e la possibilità di effettuare più controlli ed avere meno difettosità sul disegno fatto. Diciamo che è un'innovazione abbastanza importante e speriamo che ne seguano altre come abbiamo visto oggi nel tempo e comunque Paz rimane uno dei pacchetti più penso diffusi e importanti in questo ambito di tipo di lavoro. Sappiamo che nella sua azienda sono in uso sistemi EDA di diversi fornitori. Come colloca Paz rispetto alla concorrenza e quali sono i suoi punti di forza? Paz diciamo attualmente per il 98% il CAD più utilizzato da me perché pur avendo provato nel tempo diciamo provato alternative anche perché facendo lavoro per conto terzi si cerca sempre di avere un po' diversi sistemi per accontentare i clienti però avendo provato anche altri sistemi Paz rimane il tool più veloce per arrivare al prodotto che si è il disegno del circuito stampato ed è uno diciamo secondo me visti gli altri 2-3 CAD che ho provato è il metodo più veloce. Oltretutto come assistenza basta una telefonata e si hanno delle risposte in altri tipi di CAD, in altre marche di CAD bisogna prenotarsi. Uno quando deve fare un lavoro ha bisogno di risposte immediate quindi... Quindi anche un service di qualità ed eccellenza. La risposta del servizio di assistenza è molto veloce insomma. Grazie mille. Dove c'è elettronica c'è CADLOG.